Gianmarco Centinaio fa discutere in questi giorni i casi prima nel Bergamasco e poi nel Novarese di due scuole dove i bambini italiani hanno deciso di andare in un'altra scuola perché c'erano troppi bambini di altre etnie. Lei cosa ne pensa? Penso che sia un atto dovuto perché in Italia in questo momento esiste una legge che è stata promulgata dall'ex ministro Gelmini che prevede che in ogni classe ci debbano essere al massimo il 30% di bambini figli di cittadini extracomunitari. Quindi siamo in una situazione in cui nel momento in cui si eccede questa quota è giusto che venga fatta rispettare la legge. Nel momento in cui dei genitori in un momento storico come questo dove tutti chiediamo che vengano rispettate le leggi, questi genitori fanno rispettare la legge, li si accusa di razzismo. Io penso che in questo momento sia razzismo quello che afferma l'attuale ministro Carrozza, cioè che i 736.000 studenti figli di cittadini extracomunitari sono un'opportunità per l'Italia. Io penso che tutti gli studenti italiani siano un'opportunità per l'Italia, non solamente gli studenti extracomunitari. Però purtroppo siamo in una situazione storica in cui va di moda, almeno da parte di questo governo, va di moda elogiare tutto ciò che arriva da fuori, quindi gli extracomunitari, i figli degli extracomunitari, gli stranieri e tutto ciò che piace a questo governo, mentre gli italiani, quei padani ancora peggio, gli italiani sono sempre considerati cittadini di serie B. In questo caso purtroppo arriva da un ministro che dovrebbe essere il ministro dell'istruzione. Questo è il ministro della distruzione. Spero che vada a casa il prima possibile. Alcuni però dicono che il razzismo si combatte da piccoli, ovvero l'integrazione parte facendoli stare insieme fin da piccoli. Lei cosa ne penso? Penso che sia vero, perché effettivamente è così, infatti all'asilo bisognerebbe fare così, ma nel momento in cui si arriva a scuola e a scuola ci sono dei programmi e ci sono dei bambini che non sanno magari neanche l'italiano e quindi questi programmi non riescono a star dietro ai programmi scolastici. Come possiamo pensare che invece i bambini, magari anche bambini extracomunitari, che sanno bene l'italiano, che riescono ad apprendere, possano limitare quindi il loro processo di apprendimento perché in questo momento va di moda così. Allora la proposta può essere, facciamo delle sorte di test, delle specie di test per i bambini che arrivano, che si approcciano alla scuola, bambini quindi figli di extracomunitari, che almeno sappiano l'italiano, che almeno capiscano quello che dice la maestra.